Ed eccoci qui ragazzi e ragazze pronti per continuare su Tekken 8 in versione Playstation 5 ed in compagnia come sempre del vostro Diabrotex possiamo continuare sulla modalità Episodio Personaggio e qui toccherà Adasuga, quindi possiamo partire, iniziare e vediamo di divertirci anche adesso ragazzi. Lily had purchased the property and decided to renovate the entire building with the rose ornamentation that she loves so much. However, Lily was willing to restore the dojo to its former appearance if Asuka could defeat her at the King of Iron Fist Tournament. Upon seeing the message, Asuka decided to join the upcoming tournament, swearing to take back her dojo. Fantastico ragazzi, via! Andiamo! Credo che ogni personaggio avrà un personaggio diverso nel finale. Vediamo un po' se come dico io. Non credo che anche lei potrebbe avere Lars, quindi come personaggio, come combattimento finale. Poi lo staremo a vedere comunque, poi lo staremo comunque a vedere qui. Panda stai calmo eh. Panda devi stare calmo, devi stare calmo. Mi sei simpatico però devi stare un po' calmo eh. Però mi sei simpatico, questa è la cosa importante. Mi sei simpatico ma devi stare buono. Ma devi stare buono. Devi stare molto buono. Non offenderlo però dicendo che... Non devi offenderlo. Va bene, va benissimo. Va veramente molto bene ragazzi qui eh. Vai, il primo round è andato quindi... Il primo round è andato alla grande qui. Sì ma devi stare calmo. Cioè calma in questo caso eh. Devi stare calma in questo caso. Ancora. Wow. Anche qui siamo andati bene. Anche qui siamo andati bene ragazzi. E beh, direi di sì eh. Direi veramente... Ah, Brian. Eh, qui è tosta. E qui potrebbe essere abbastanza competitiva. Però staremo a vedere. Non mi lascerò di certo intimorire qui eh. Eh no, assolutamente. Non mi lascerò intimorire ragazzi. Wow. Fantastico, fantastico. Veramente fantastico ragazzi, sì. Stai calmo Brian qui che... Devi stare tranquillo. E devi stare tranquillo. Non puoi fare il prepotente in questo modo perché non puoi farlo. Non puoi permettertelo. Vai. Ce l'abbiamo fatta ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'ho fatta. Oltre che ce l'abbiamo fatta, vai. Ok. 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 State buoni. Ok. Ok Cercherò di giocarmela bene Però qui Un po' di difficoltà Contro Xiao Yu La sto avendo Sono sincero Sono sincero ma Vabbè alla fine Alla fine abbiamo perso Vabbè un round ragazzi Non è che siamo andati sotto Chissà di quanto Adesso cercheremo di recuperare Cercherò di recuperare tutto qui Ci mancherebbe Ma ci mancherebbe Ci mancherebbe Andiamo Wow Perfetto ragazzi Perfetto Tutto sotto estremo controllo Qui eh Tutto sotto estremo Controllo Devo solo cercare di non perdere Devo solo cercare di Non perdere Di non rimanere sconfitto Altrimenti Altrimenti Perderemo solo un po' di tempo Ma vabbè Fa anche parte del gioco Non rimanere sconfitti Ma abbiamo vinto Quindi va bene così Ah ma siamo già nel finale Siamo già arrivati Nel combattimento finale Qui ragazzi Ah ok Quindi Ho detto io Che non era sempre Lars Quindi Contro Lily Eh vabbè Lily è anche un personaggio Che sinceramente Mi piace molto eh Sono veramente sincero Ragazzi Wow Stai calma Lily Stai calma Niente Devi star calma Lily Mamma mia Vai proviamo 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 a chiudere qui lo scontro Proveremo a chiuderlo qui ragazzi Abbiamo un altro round Giustamente Giustamente Mamma mia Mamma mia Così non va bene Mamma Eh lo so ragazzi Questo round è andato Veramente malissimo Ne ho prese di santa ragione Purtroppo Ne ho prese di santa ragione E non è detto che Riuscirò a vincere Così facilmente Io provo però Qui sto avendo Veramente difficoltà ragazzi Eh sì Contro Lily Sto avendo difficoltà ragazzi Sono sincero Ma è così Purtroppo È così Purtroppo Vai abbiamo vinto E va bene così Abbiamo vinto E va bene in questo modo ragazzi Va bene in questo modo Ho vinto il titolo Ci mancherebbe Non avevo dubbi Al riguardo E quindi Vediamo un po' Se abbiamo una cutscene Qualcosa di finale È certo È certo Ogni finale è diverso Cambia il personaggio Cambia il finale Eccola qui Eccola qui fantastico ragazzi fantastico 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 vediamo un po e anche qui è fatta abbiamo ottenuto vabbè più o meno allora ragazzi anche qui si chiude un altro episodio su Tekken 8 sulla modalità episodi personaggio ovviamente Tekken 8 è in versione PS5 è sempre in compagnia del vostro Diablotex vi ringrazio di cuore a tutti e a tutte vi ricordo come sempre che se vi farà piacere di lasciare un like, un commento condividere il gameplay ed iscrivervi sul mio canale YouTube andremo avanti andremo avanti alla grande e ci divertiremo grazie di cuore a tutti e appuntamento con il prossimo episodio ciao